Il Kiraat ha bisogno di novità. Ajai, ti stavamo aspettando. Sono tutti pronti per l'ultimo attacco. Colpiremo la fortezza di Pagan. Non sarà facile. Ho sentito di Sabal. Qualunque sia la tua posizione, sappi che Amita vuole solo il bene del Kiraat. Marte a Pagan Mim! Dobbiamo andare. Pagan Mim! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.